Un rullo compressore che tira dritto per la sua strada. Il presidente siriano Bashar al-Assad ha rilasciato un'intervista alla stampa occidentale assicurando che resterà in carica fino alla fine del suo mandato nel 2021. Secondo il leader siriano, il suo paese è ora in condizioni addirittura migliori rispetto a prima della guerra. Affermazioni che arrivano mentre i gruppi ribelli sono impegnati in una dura battaglia contro le forze governative per il controllo di Aleppo. Secondo il ministero degli esteri di Mosca, alleata di Assad, i ribelli sarebbero responsabili di attacchi con sostanze tossiche nei quartieri ovest di Aleppo. Intanto il ministro della difesa russo, Serghei Soigu, ha messo una pietra tombale sulle prospettive di negoziato accusando i paesi occidentali di armare i ribelli. Di conseguenza le prospettive per l'avvio di un processo di negoziati e di un ritorno alla pace in Siria, ha detto, sono rinviate a tempo indeterminato. E a mettere sullo stesso banco degli imputati sia i vari gruppi ribelli che le forze governative siriane e di loro alleati, sono le Nazioni Unite. Secondo l'Agenzia ONU per i diritti umani, ambo le parti si stanno macchiando di crimini di guerra nella battaglia di Aleppo.